dopo questa dichiarazione ufficiale da parte della faiva diventa un po dura non capire che siamo di fronte a una truffa è una truffa hanno raccontato una cosa per un'altra poi qualcuno parava un po intortarla imbiscottarla dicendo ma noi lo sapevamo benissimo benissimo di che e quante volte avete ripetuto urlando con cattiveria si tratta di un prodotto ultra sperimentato quanta gente quanti imbecilli quanti medici quanti professori professore quanti professori hanno detto è un prodotto straordinario in sei mesi abbiamo fatto il prodotto migliore ci volevano vent'anni ma noi in sei mesi li abbiamo preso per il culo in sei mesi in due anni il tempo di produrre la prima cagata che gli passava per la testa e direi ma vediamo se funziona che poi manco va a capire se gli interessa che funzioni o meno e il green green passato green passato in padella la gente rimani fuori il novax perché queste persone che infettano gli altri perché l'untore sei un untore beh nel teatro in cui siamo io non me li sono mai cagati proprio manco di striscio l'ho detto più volte ma allora vai fiero di sì sì vado fiero molto e purtroppo è successo questo vi hanno truffato e hanno provato a truffare anche noi hanno provato a truffare tutti e dovreste non dico arrabbiarvi ma se non altro avere un minimo in più di cura quello avere d'attenzione per il futuro perché questi qui lo rifaranno e questi soggetti che non si vaccina muore e fa morire gli altri questi soggetti rigorosamente bisogna chiudere i rubinetti rimettere chiusi dentro casa che hanno siringato le persone e io non sono di quelli che dicono sono spietati il truffatore quello vero è spietato quello ottiene il suo beneficio per sé e per di più è strapotere e denaro denaro e potere io posso io domino l'altro io vinco io sono più forte io ho e gli altri poi se si sentono male lo cazzi loro la truffa è questo è ottenere per sé e poi se gli altri si fanno male è andata così queste menzogne che hanno ripetuto detto urlato aggredendo mettendo uno contro l'altro il novax il novax ma vaffanculo ne sono fiero di aver preso le distanze da questa truffa di aver sentito l'odore rigorosamente di truffa nel primo istante da quando imitavo questo che il 31 di gennaio uno che il 31 di gennaio del 2020 emette nel silenzio il decreto dei decreti da cui poi scaturiscono tutti quanti dpcm tutte quante le restrizioni l'ho fatto io rigorosamente e lo stesso giorno fa un'intervista in cui dice è tutto sotto controllo lo stesso giorno ma quante volte ve l'ho detto ma cazzo cioè uno che fa lo stesso giorno fa un decreto d'urgenza nel silenzio e ti racconta all'esterno tutto rigorosamente sotto controllo e da quel momento ti chiude per due mesi e mezzo dentro casa fa chiudere le attività mettere la gente nella condizione di sofferenza ragazzi più chiaro di così comunque seguitemi su questo canale sul sito sandrotorella.it perché a me quando puzza me lavo no quando puzza ve lo racconto grazie a tutti